ebbene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube come sempre una buona giornata a tutti voi ringrazio tutti i nuovi iscritti sul mio canale tutti voi che mi seguite veramente con costanza e con affetto allora quest'oggi riporto una bellissima vincita che è caduta nell'estrazione di ieri del 5 settembre di martedì dal mio abbonamento previsioni ancora più potente rinnovato terno vip questa è una giocata di grande investimento mensile dove io vado a darvi pensate una sola terzina su una sola ruota che la ruota di bari chiaramente poi mettiamo anche nazionale tutte perché se esce un terno a tutte sono bei soldini e se ci sono nazionale ancora meglio perché nazionale costituisce ruota a parte ma comunque la ruota è unica ruota di bari come notate da questi due cedolini me ne sono arrivati anche altri come vi porto i primi guardate ruota unica bari c'è chi lo gioca su ruota unica c'è chi lo gioca anche tutte nazionali io consiglio anche tutte nazionale è uscito il bellissimo ambo alcuni hanno giocato anche secco perché l'ambata e nel 74 ok e ho dato la terzina 74 47 75 quindi possiamo dividere anche i due ambi e quindi molti hanno vinto anche lambo secco 74 47 sulla ruota di bari attenzione che questo è un abbonamento previsioni che do in grande promozione non è assolutamente da perdere perché ogni mese vi andrò a dare il terno vip con la nuova formula migliorata con un calcolo alla base che ho totalmente ristudiato e rinnovato per renderlo ancora più potente infatti i risultati si sono visti subito a colpo secco perché ho aggiornato la giocata per settembre ed è arrivata subito questa grandiosa vincita del lambo secco 47 74 e lambo in terzina ok quindi attenzione contattatevi via whatsapp 3 4 8 7 5 4 7 7 1 5 numero che trovate sempre in descrizione per avere informazioni su come aderire in grande promozione all'abbonamento previsioni terno vip queste sono vincite cari amici di grande valore di grande importanza perché vincere con soli tre numeri secchi su una sola ruota non è facile è uno e dimostra che alla base c'è uno studio di grande valore non è semplice vincere a ruota secca con soli tre numeri e sapete che con me andate a toccare con mano sempre vincite importanti vincite secche vincite con numeri ristretti quindi attenzione chi vuole aderire al terno vip può farlo ancora poche adesioni in grande promozione questa è stata una bellissima vincita ambo secco 74 47 se usciva il 75 era un grande eterno quindi è l'ambo in terzina perché il capo gioco era il 74 ma anche centrare per esempio lambata un ambato una ruota e non si scherza quindi una giocata veramente incredibile che consiglio a tutti voi mi raccomando contattatevi in privato per informazioni per adesso saluto a tutti mister sbancolotto